Il terzo appuntamento del Museo Regionale di Scienze Naturali presso la sede di Palazzo Lascaris, dopo quelli sulla felce lunaria e sul cranio dell'orso delle caverne, è con la chiocciola Elix Pomazia, esposta fino al 27 gennaio. La lumaca, nota con svariati nomi comuni, tra cui chiocciola vignaiola ed escargo de Bourgogne, è utilizzata nella farmacopea popolare per la preparazione dello sciroppo di lumaca, raccomandato per alleviare la tosse e lenire le ulcere. Elix Pomazia è universalmente più conosciuta in campo gastronomico.